e poi parigi non lo so che non lo so che è la squadra dell'indificio capo lungo c'è l'immagine di sta partita vietoso vai ah lo ce l'ho fatto male raffaello a me non è uguale proprio è uguale proprio va bene faccio ne dire che ogni tiro perdevano la pagavalla ma come mai sto Napoli sta scendendo a cucina perché chi sta nell'andro o milan no serio ma però capito no c'è in Europa League che cazzo tu stai vanno comunque una competizione mettici qua così ma lo stesso che cos'è è uno step che non vogliamo fare cioè un presidente di Napoli è uno step che non vuole fare migliorare è tutto bene tutto è buono senti ma partiamo ragazzi ma perché qua il tempo stringe io sono partito già siamo già online i minuti contati sì volevo sapere solo una cosa se gentilmente Paolo mi fa da regia Paolo puoi vedere se l'audio esce se il nostro audio esce perché ci hai fatto una modifica e vorrei vedere di questa cosa eh sì stai su Facebook e su Twitch 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 Facebook Facebook come un po la cosa sta funzionando per sapere se l'audio esce si 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 prova trova guarda la cosa è proprio la zona nostra non posso fare niente come missione perchè uno mi dice il ricercato e un altro mi dice l'equipaggiamento eccetera eccetera mi è dispiaciuto mi è dispiaciuto proprio mi grido riscaldamento finito pronti allo schieramento nella zona di guerra mi è dispiaciuto perchè mi ha dato una corruta a presa bunker o andiamo dove volete andiamo a buone atto andiamo a spavano basta che si vede qualcosa andiamo un po' io direi di partire dei filati però c'è un bersaglio prioritario c'è di non andare subito abrimo lì su fuga eh si amico in disceglie di cario UAV alleato in zona sul volo avviato corazza e B trovate pure io le volo corazza qui ma io c'è sta minaccia a 3 si è attento agis agis c'è un lanciatore qui via c'è a 3 ora c'è un lanciatore qui lo vedo lo vedo fly terra fatto 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 un altro 45 metri ringato prendo qua secondo me UAV nemico in volo UAV nemico in volo allora uno da dire uno davanti sta arrivando pure Paolo è scesa nell'area operativa 22 metri sta alle spalle staro stai tu Paolo col tetto sta salendo sotterra io eh si è il slunga strada che hanno fatto ok uno fatto va bene attento Paolo attendo alle spalle sta Raffaele la rossa prova venire da te aspetta entro ma non sta ruadio ah ma stai in goffo sta sopra si si pechinato si abbassati sta vicino a noi 4 metri sta sotto o sopra tutto è entrato terra morto morto ottimo magari a pochi secondi è quasi finita a me per il momento ci sta nessuno in cima a posto avete esaminato gli inseguitori dietro viene andati qua venite io verso con me movimento no lo vieni ok abbiamo un altro dietro bellissimo ottimo 40 metri uno non so se sta sopra non penso non lo vedo più ci stava lanciando mi sa eh può essere sta casino al bunker secondo me la tasca la gente è qua la gente è morta 40 metri paolo dove stai tu hai da giù genaro affermativo parano perché 27 metri e faccia a terra ho già visto non so a terra ma è stata vai si poi ho piaciuto vado vinto entra entra maolo entra alzami un attimo un'altra terra un'altra terra oh hai da me ci sono ci sono un'altra terra ma secondo me è stata sana è stata sana secondo me scesa nell'area occhio in alto farà là dentro vado a pusha bombardamento di precisione alleato attenzione per la terra ma c'è pure a me a posto il squadro stiamo facendo command si guardano le spalle sto mettendo le piastre ho qua 40 metri si 40 metri faccio annuncio 19 metri a destra ostile in discesa nell'area occhio in alto qua metto il caiccio te la caverai c'è come me io faccio cadere qui c'è tra le spalle palo palo alle spalle testa la macchina le spalle ha polizzo difendi 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 oh qua palo 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 le spalle palo palo fatto 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 eh mi ha fatto ero wow fatto falsa palo falsa palo picca palo no fanno troppo scopirtelo oh io lo sape non ti metterlo non ti metterlo stai rilanciato facciamo aspetta voi dicemi se ce la fate ce la faccio quando ce la fai aspetta si ce la faccio andiamo alla vediamo dove siamo morti guarda un attimo questa raglia e vengo oh bastardo sto a cento metri da te e ti rimane a tagliarla non ci voglio non stiamo vicino ma dove stai palo? stai lontano movimento guarda in movimento non ti mettermi stai solo tu nooo nooo è finito su live perchè ma c'è 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 però per i capi le nevi ha detto ma deve capitare la storia al storage figuraci ho visto ho visto a ostile in discesa nell'area occhio in alto questa eccolo nooo nooo ho dato un nemico in arrivo ho dato un nemico in arrivo nooo ma mannaggia la crottola no sta terra pure io dove state? no alza al palo alza al palo è uno solo due la gisender ma dove sta la tinta? a lo sta sta dietro la alza al palo sta andando con la macchina これは va 者 ma come se fac è italiano pure visto qua un agio fatto un agio fatto non so l'altro dove sta e fatti fatti o cannes a chi se non ce ne sta ancora un altro dietro alle tue spalle arriva arrivo a questo è il muro e a foggilo cadesse tra un amico in arrivo a terra una cosa fatte sono troppo solo troppo solo wow mi ha buttato fuori anche a me è proprio il server che è caduto grazie